O la va o la spacca? Ehi, dottore. Vedo della roba piuttosto inquietante. Credo sia qui che fanno i cloni di cui parlavi. Progetto Longevità. Sì, ancora una volta le mie supposizioni erano giuste. Cerca un campione di DNA del buon generale e portamelo. Così rovina questa oscenità. Sto entrando a cercarlo. Sì. L'inutile pupillo di Ervaina praule. Ucciderla in quel modo è stato proprio insoddisfacente. Con te farò con calma, invece. Assaporerò ogni istante del tuo interore. Vieni a prendermi. Ora la mia punizione cadrà su di te. Piaggia di morte. Ora la mia punizione cadrà su di te. Piaggia di morte. Piaggia di morte. Grazie a tutti. 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 I tuoi sforzi sono inutili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dottore. Credo di avere un campione di DNA sufficiente. Te lo porto subito. Ottimo. Ottimo. Non vedo l'ora di metterci su... L'ora di...